Roma-Cagliari, il crocevia per l'Europa che non conta, mentre a Mirano, un barese, da ieri sera non dorme più, l'Inter è campione. L'ossessione si distrugge contro la realtà, la perseveranza si infrange contro la corazzata di Simone Inzaghi. Allora, innanzitutto premessa, porto rispetto solo per carenza. Fatta questa premessa, uomo di parola. Spamini mecenate delle nostre eroe, grazie. Grazie Spugnati, altro interista di Titanio, sempre qui con noi. Comunque dico quello che devi dire, che c'è una persona. No, ieri mi sono arrivati tanti messaggi, da ieri sera a stamattina ho ricevuto un sacco di messaggi, la maggior parte... Immagino tutta gente che ti faceva i complimenti, no? No, nella maggior parte dei quali c'era scritto, oggi non dici niente che abbiamo vinto senza episodi dubbi, perché loro ci hanno portato a questo. Ci hanno portato che la normalità è avere gli episodi dubbi a favore. Ieri che non li hanno avuti, è una cosa clavorosa. Ieri, oggi abbiamo vinto senza rubare, grandi, è una cosa folle. Questo ci hanno portato a pensare. E voi, uguale, gli andate dietro e siete delle capre, tutti. Perché adesso questa è la normalità, che rubino, se non rubano è una cosa clamorosa. Pensate un po' come siete arrivati. Però, va bene. Adesso c'era qualche pagliaccio. Direttamente da Palagianello, il re dell'interismo. Oh, ma Freddy! Che cazzo dici? Sì, non ti sei presentato, il suo cibo. Ma voi che... Cosa fai? Sei fatto male? Sei ferito, sei ferito. Enzo, Enzo. A parte un applauso alla pelle di Enzuccio. Bellissima. Bellissima. Bellissima come sempre. Facciamo finta che non sia successo niente. C'è una persona per te. Direttamente dalla Puglia, il re di Palagiano. Slavis and gentlemen, Enzuccio. Bellissima come sempre. Bellissima come sempre. Vabbè, di dire non ti sei presentato, il suo cibo sport. I messaggi che hai ricevuto, quali sono? No, abbiamo vinto senza rubare. Tu stai portando in giro questa viralità di dire che l'Inter vince rubando. Dove? Dove? Abbiamo la squadra più forte d'Europa e continua a giustificare il fatto delle nostre vittorie. Rubando. Io voglio vedere dove cazzo rubiamo. Siamo una squadra completissima. Completissima. Ma che cazzo? Tu ora sei diventato famoso perché offendi l'Inter. Tu sei diventato famoso in questo... Famoso, oddio. Sei diventato... Posso? Posso rispondere o devi continuare a parlare adesso? Ah, poi un'altra cosa. Grazie per aver scudato il circocampista più forte del mondo. Cialanoglu. Sopra Cialanoglu. Mamma mia che giocatore è, Enzo? Sì, sì, sì. Grazie. Allora, tu sei un incompetente nato. Tu sei un incompetente nato. Com'è che fa Danfri? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ciao, Vabbè, qui. Diciamo lo scudetto. Ciao. 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 Ah, scudatelo. E' spuntato un fungo. Boh, la clip per TikTok è fatta. A posto. Ci vediamo stasera a Pocece, raga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono canali che io ti consiglio. Allora, vabbè, dieghe. Adesso andiamo sugli episodi, caro il nemico Manfre. Allora, prima volevo dire due o tre robe che escono un attimo anche dal calcio e volevo fare i complimenti. Innanzitutto ti volevo dire se ti ricorda di più una lavagna, questa cosa che ti farò vedere, l'urlo di un delfino, oppure non lo so, però adesso te la faccio vedere. Ma zare. Occhio ai timpani, occhio ai timpani. No, non ci credo. No, a voi dai, basta! 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 Subirino da poli, basta! Basta! Quanto lotta! Allora, non so se hai mai visto... Dicono un T-Rex. Non so se hai visto Stranger Things. Sì, certo che l'ho visto. C'è un momento in cui il mostro grida così, mi ricorda molto... Ma te pone? Sì, sì, sì. Altra nota di merito, ragazzi. Giuseppe Murigno, poi ne parleremo. Ha arrestato per droga a Livorno, sul panetto di Ashish, la faccia, come vedete, di Giuseppe Murigno. Eccola qua. Ti dico che è uno dei... Non è che delimè. Non lo so, però è uno dei sogni che ho fin da piccolo. Complimenti, complimenti. E da lì, proprio perché, secondo me era tipo una roba dal Monte Chetana, proprio lo special. Secondo me gli altri erano tipo dei fumi un po' del cazzo. Poi questo qua era proprio tipo l'olio. Quello proprio che lo tocchi e si plasma. Lo special K. Allora, dobbiamo andare però sulle polemiche di oggi. Mi sono preoccupato, Manfredi, di mettere anche nel bot quelle del Milan. Non vorrei mai che tu ti fossi dimenticato. Faccio entrare, però. Non erano necessarie, però vabbè, vediamo se avanza tempo. L'eroe del Laia. Ciao a tutti. Buonasera a Dennis di Onore Arbitrari. Ciao a partire con il cappuccio. Mi è rimasto della... Io in crisi, il caccio italiano. Dennis, ma sai che ci hanno detto che un po' ricordi sempre te, diciamo, la forma, no? Di questo uomo mascherato. Ce l'arrivate anche te queste voci? Sì? Sì. No, no. Non è arrivato... Io in Valle d'Aosta non mi è arrivato... Sì, da te sei sempre in fede. Sempre in fede. Il nostro Spider-Man. Tra l'altro scusa... Però ho portato il cappuccio apposta. Per vedere così, quel cappuccio, proprio uguale. Cioè, fatto e finito. Ma fra una roba, scusa, ti volevo dire. Sogno, perché poi mi dimentico sempre. Io sogno, per questo fine settimana, o durante la settimana, una sera, una live con... Neschio. Tom, quello che hai fatto con l'intelligenza artificiale. Ok? Il nonno bastardo. Ok? Che anche lui non è vero, quindi... Cioè, almeno quello che diceva Barzaghi. E poi... Ho un nuovo idolo da ieri. Lui. Portami... L'Autaro Martini. Anche il Benzinero. Anche il Benzinero. Anche il... Eeeh. Psicologia. Psicologia. Parleremo di psicologia. Per favore. Lo chiedo per favore. Tanto questa strana c'è un cazzo. Tra l'altro, ragazzi, da domani... Domani mattina appuntamento con quell'uomo qui. Buongiorno Don. Buongiorno, buongiorno. Anche Asso, Ervi e Flavio. GTA RP versione Fucina. Occhio! Denis, tu giochi a GTA RP? No. Però ci giocavi a GTA? Giocavo a GTA 1 e 2. Anch'io. 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 No, anche gli altri in realtà sono andato avanti. Però... Poi... Io ho già deciso che farò... Ocala Brescombe. E' una donna veramente... Mi spacco il culo. Bellissimo. Allora, poi ho invitato anche Pub perché vorrei fare proprio... Cioè, ognuno si deve studiare un personaggio che sia diverso dal suo. Manfred, tu hai qualche idea sul tuo? Potresti fare l'intervista ossessionato dalla Juve, tipo, eh. Diverso dal mio, devo farlo? Eh, no, beh, devi fare una rappresentazione del tuo. Io voglio fare il ritorno del pancio tamaro, tipo. Ah, eh, no, ci penso un attimo, ci penso un attimo, ci penso un attimo. Va bene. Ehm... Ci penso, ci penso, ci penso. Buongiorno anche... Buonasera, buonasera a tutti. E tra l'altro, Anto, complimenti ieri, uno dei pochi tweet lucidi che ho visto post partita era il tuo. Come sempre un'analisi lucida. Per questo non lo invitiamo nei post partita, tra l'altro. Ci tengo anche a dire... Sì, troppo, troppo lucido. Sì, troppo, 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 troppo. Avebbe detto, merito loro, quelle robe lì. Peppe Marotta, la Marotta League, l'uomo che con due banane e quattro brioche ha tirato su una delle squadre migliori d'Europa. Ma che quali quattro banane? Un miliare! Un miliare chiude, ma se non parlare in rosica! Rosica! Oggi devi solo rosicare e basta, Manfredi. Hai molti ganchi più alto d'Italia, ma quali quattro banane? Nessuno può offrire sei milioni ai parametri zero. Oggi devi rosicare, Manfredi. È vero che ieri si è presso con merito, però seguendo gli striscioni che avete messo in inizio partita, Marotta lì non ci doveva mai essere. Diciamo che comunque non è solo Marotta, ma io ho visto anche un bel gesto da parte di Scesni, non so se avete visto a fine partita che va ad esultare con Lautaro e Turano. Grande gesto ragazzi da parte di Scesni, veramente questa è la Juve che ci piace ragazzi, complimenti ancora. Grandissimo gesto ragazzi, questo è il calcio. Scesni come Gianni Bianco. E' un po' la Gianni Bianco. Signori, oggi non ci avevamo ospiti purtroppo, abbiamo dovuto chiamare anche loro il giornale. Buongiorno a tutti dalla Capolista, dalla squadra più forte d'Italia che ieri sera ha dimostrato sul campo di esserla più forte. Ma lei è un Ultras? Io sì, vado in curva, ho un gruppetto di amici. Allora abbiamo l'Ultras che va in campo, abbiamo anche l'Ultras che non va in campo. Buongiorno Francesco Torre, buongiorno signor Torre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buonasera. Torre come va la vendita di cappellini? Tutto bene? Procede bene? Tutto bene, ora ho fatto anche la luce led dietro, non so se vedi in alto sulla accia che mi ho faccio lì. E' al top, ormai è un marchio. Sai che non si vede un cazzo però, te lo volevo dire. Eh lo so, è troppo alto, devo un po' abbassarlo. Perché non ti zoom, anziché zoomare te, che comunque ti dico la verità, fa lo stesso, non metti lo zoom lì. Ti metti te opaco e zoom lì. Fisati. Così. Perfetto. Ma ancora un po' di più, Torre, ancora un po' di più prova? Un po' più fuori fuoco. Più fuori fuoco. Eh ma è troppo basso se no. Ma non devi zoomare in avanti, devi cambiare lo zoom, porca puttana. Eh no, non c'è voglia di fare con le liso, con le cose lì. Ma che liso? Non so toccare sta videocamera. La tecnologia non fa per me. Vabbè, un boomer zoomer. Eh un boomer, sì. Allora, andiamo sugli episodi che Denis non c'ha tempo da perdere, che c'ha un servizio delle Iene che lo aspetta. Allora, parte 3. Allora, allora, ci sono due episodi ieri dubbi, uno a favore dell'Inter, uno a favore della Juve. A quali, scusa Manfredi. Sì, allora diciamo che sono stati episodi poi solo sui social, perché in realtà durante la partita penso che tutti siamo contenti della prova di Maresca. Beh. Questo cos'è, ha tirato la maglia? No, c'è un pallo di mano. C'è stato un tocco di mano di Turan, ma in realtà dall'inquadratura, quella più larga, si vede come il pallone passi in realtà lontano dalla mano, quindi non c'è neanche un possibile dubbio di un eventuale tocco, che ricordiamo, essendo poi nell'immediatezza poi la rete, perché in quel caso il tocco di Turan sarebbe da annullare, ma ieri poi a Pressing hanno fatto vedere tutte comunque le inquadrature, anche quelle che viene usata per il fuorigioco, quella sui 16 metri. Un po' più lontano e da quella si vede, un po' più in alto e da quella si vede come il braccio sia lontano dal pallone. Sì, Deni, se posso permettermi. Sì, 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 dici, dici, ossessione, dici, ossessione. Come al solito, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che, come giustamente hai detto tu, l'immagine chiara l'abbiamo avuta a mezzanotte a Pressing. Ma questa era chiara anche da qua, si vede dal retroporto. Prima c'è rimasto un po' il dubbio, onestamente. Ma chi? Ma chi? Questa nessuno. Ma come c'è rimasto? Fate che farle allargati. Hai pubblicato il posto ancora prima del pallo, ma Fredi. Che poi c'è un possibile pallo di Bremer. No, non so se... Prendi un attimo, no. Vediamo se abbiamo degli juventini, magari anche Antonello è uno di quelli che fa parte del noi, no? Guarda, dalla prima immagine non era chiara, ma anche... È contento di avere uno spiraglio, prego, prego. Però non è mai fallo. Se non tocca la mano, mi sembra... Ma è punta, Paolo. Ma l'immagine, scusate... Ma l'immagine, a livello di VAR, questa immagine non è neanche presentabile, ma è chiaro. Esatto, non hanno solo... Esatto, questa non viene sicuramente fatta rivedere al direttore di... A parte che in questo caso, essendo un gol, in teoria non viene richiamato il direttore di gara, ma controllano. Ovviamente questa non ha a poca valenza, perché sì, è su una questione di prospettiva, ma già dopo il gol, al di là di quella alta, mandata a pressing, già quella dalla camera opposta, dall'altro lato della porta, in basso, si vedeva che il pallone passava dritto, senza problemi. Ah, ma manfa, hai fatto la live reaction ieri sera? Aspetta, eh? Che riesce a tenere in capo, però, il facilissimo cosi! Oh, buca lì! 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 Grandissimo, grande gol! Eh, andava tu! Comunque, Arto, ti chiedo a te perché Manfredi l'avrà vissuta così. Prego, Don, scusa se avevi alzato una mano. No, volevo soltanto dire, no, solo sull'episodio, ma a Dennis voglio chiedere, il movimento con il braccio, che poi tocca, non tocca, potrebbe influire comunque poi la giocata di Gatti? No, se la tocca e la palla va in porta, la tocca, se la tocca. Se la tocca siamo su un gol, quindi non c'entra il tipo di movimento, è sempre da annullare, ma non la tocca, quindi non... Cioè, è diverso rispetto a un rigore. Si è fatto un'ipotesi, si è fatto un'ipotesi. Se fosse qui, in caso di tocco, quello non ci sarebbe discussione. Come non c'è discussione è perché non c'è il tocco. Ma qui, secondo me, a chi era dedicata ieri la coreografia dell'Inter? Che abbiamo visto... Da quel che ho capito io, hanno fatto tutta la frase sotto, è ripresa dalla mitologia greca, dalla medusa, che ti fulmina, quella che ti petrifica con lo sguardo. Ah, chiaro, chiaro. Com'è che si chiama, ragazzi? La medusa, si chiama proprio medusa, la figura mitologica. Ok, ok, no, no, niente, 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 no, ci avevano mandato questa cosa. No, no, non era qua, ti metto, su. Niente, niente, niente. 20.000 euro buttati, dai. 20.000 euro è costata, eh. 20.000 euro è costata. 10, 10. Ah, a me è arrivato 20.000, però. Eh, voglia che 10.000 te li sei presi tu, donna. Esatto. E li farceli. C'è poi un altro episodio del quale invece in tempo reale abbiamo avuto 700.000 replay ed è questo qui che vi faccio vedere. Eh, il rigore netto. Cioè. Torre, non cadere nel tranello di un ossessionato, per favore. No, 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 questo qui è sempre rigore. Cioè qua è step on foot, è sempre calcio di rigore. Turam sposta il pallone, Danilo arriva in ritardo e becca al piede di Turam. Vabbè ragazzi, le quadratura è di merda perché praticamente in realtà secondo me le immagini non c'erano neanche ieri sera, vi dico la verità. Ah no, questa l'abbiamo vista bene ieri. Ragazzi, non ne abbiamo parlato ieri sera di questo episodio, Manfredi praticamente. Dico solo questo. Da zone l'ha mandata in ordine. Gravissimo. Vabbè, da zone alle immagini può... Eh, ma quella di prima non ce le aveva però, prego. Dan, step on foot, comincia Torre, eh. Allora, qua ci sono due contatti appunto. Il primo è quello che è evidenziato dall'inquadratura. In realtà abbiamo sempre visto anche negli altri episodi dove quando non c'è un piede proprio sopra il piede, ma va solo sulla parte laterale della scarpa, il VAR non interviene mai, al massimo può essere un episodio da campo. Nel senso che qua si può comunque leggere una negligenza perché arriva in ritardo, eh, arriva poi in ritardo Danilo appoggiando il piede. Però è veramente, è veramente leggero. Poi c'è il secondo tocco che lui cade per questo secondo tocco, però il secondo tocco è quando Danilo con la gamba destra tiene fermo il pallone, blocca il pallone. Abbiamo fatto il pur ragazzi votate. Che ha alta, eh, che ha alta poi Turam. Turam cade per quel secondo contatto che sicuramente non è, non è falloso in alcun modo. Sul primo, come dice Torre, se l'arbitro lì vede un movimento in ritardo lo può fischiare, ma non è uno step un po' di quelli cui siamo abituati, dove c'è proprio il piede su piede pieno per cui il VAR interviene sempre ed esce poi dall'on-fier review con un cartellino giallo. È un episodio... È un finger on food. No, brutta questa. Questa è brutta. No, ma solo perché sapevo quella parola lì in inglese, non era per la battuta. Però diciamo comunque ieri Maresca ha fischiato solo 16 falli, questi mezzi contrasti, diciamo fuori da quelle che sono le casistiche definite, li ha sempre lasciati giocare in qualsiasi zona del campo. Mi ha fatto incazzare solo una volta, Denis. Allora, ha fatto due cose, secondo me. Poi finiamo allora 16 falli. Allora, secondo me, nella seconda parte di partito, agli ultimi 25 minuti ha lasciato correre forse anche un po' di più. Però ci sono stati un paio, non so, un'occasione Turam, un'occasione Ovlaovic, dove si sono lasciati cadere un po' facilmente. Lui, lì mi è piaciuto tanto. Poi può essere, ha placato subito la prima protesta con il giallo Ovlaovic, dove lì c'era, si trattengono insieme ad Acerbi, poi Ovlaovic è abbastanza palese, però secondo me quella munizione non è tanto figlia di quella protesta. Eh, c'è da dire questa cosa qua, caro Manfred, che a parte invertite sarebbe successo un casino. Dobbiamo essere... Tra l'altro è improbabilissimo, non è molto probabile, ma... Del fallo che ha fatto Ovlaovic dopo forse 7-8 minuti in ritardo su Pavard, dove poi con la gamba tiene il ginocchio alto, Pavard rinvia, siamo vestiti all'area. Lì lui l'ha richiamato proprio, ha detto, guarda, hai già fatto un fallo lì e questo è più duro. Alla prossima, sopra le righe, quindi l'ammunizione lì, oltre che la protesta si è vista, diciamo, che quando è un po' palese, eh, difficilmente l'abito può non ammonire, però sicuramente è figlia di quel fallo un po' duro, che poteva anche costare il giallo subito. L'Imaresca è andato proprio... C'è stato un richiamo di quelli, viene riferito un richiamo ufficiale, cioè è arrivato proprio a mezzo metro da Ovlaovic e ha detto, alla prossima cosa che fai, guarda che ti do il giallo. Quindi quello è sicuramente figlio di quello. Sul giallo invece è dato a Danilo, ammonito poi poco. Totale 16 falli, 5 ammoniti, 3 per l'Inter. Scusa, pancio, dimmi, fermi. No, 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 ho visto, però figli pure. Così, 5 ammoniti, 5 ammoniti. Quello di Danilo, allora, te fischi, in quell'occasione è giusto dare il giallo. Nel senso, mi spiego, nel momento in cui fischi quel fallo di Danilo, non puoi non ammonire, perché è vero che siamo lontani dalla porna, siamo nella metà campo dell'Inter, ma Thuram è a campo aperto e c'è solo il centrale della Juve sul cerchio di centrocampo. Ah, ho capito qual è lì, è un'altra azione, ho capito. Esatto, nel momento in cui fischi è corretto dare il giallo. Cioè, nel momento in cui Maresca, lì fischi a fare... Però ieri Maresca, Denis, vuoi dargli un voto? Beh, l'arbitraggio, dai. A livello, diciamo, in decimi, sicuramente un sette pieno, proprio, io direi anche sette e mezzo, per una questione anche atletica. Lui ha corso tutta la partita, dall'inizio alla fine, soprattutto nel secondo tempo ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte, lui era sempre lì. La prima polemica, la placata, prima muso duro, però non con spocchiosità, come magari possiamo essere anche abituati. È stato proprio autorevole con Blauvic, e poi l'ha monito alla prima protesta e nessuno ha più fatto scene un po' fuori dalle righe. Ha monito Inzaghi quando ti ho preso il pallone che gli ha rimbalzato fuori dall'area tecnica. No, poi era una partita non facile. Tra l'altro per la cronaca c'è arrivata al bot anche l'altra inquadratura dove si evince che... Da qua si vede che il braccio è lontano. Questa è arrivata a mezzanotte, eh. Sì, vabbè, dai. Questa è quella che ci stai già. Ma tu, scusami un attimo, ma io volevo capire, ma tu stai lì, c'è un taccuino dove ti scrivi a che ora arrivano le immagini dell'Inter? No, 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 io pago un servizio, pago un servizio e vorrei in quel momento capire se è rigore o no. Questa mafra è lecita, è lecita, però mi sembra che tu sia particolarmente attento su certe cose e su altre no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. No, allora, c'è il toque. Allora, però, non partiamo così. No. Ma io vovo. Non può. Non può. Non può. Eh, eh, cazzo. Io cerco anche di proteggerla tutte le volte. Però mi piace che sono esaltati per una vittoria del zero. che si finiva 0-0 non succedeva niente sta partita oh ma io sto ancora aspettando sto ancora aspettando il premio invece del fallo sul Frosinone sul pareggio che hai fatto col Frosinone e io ancora non l'ho visto il primo gol adesso lo andiamo a vedere adesso lo andiamo a vedere io quel premio lo sto ancora aspettando Manfredi Manfredi sei scappato ieri eh dov'eri 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 dopo Fiorentina non guardo più il cazzo scusate Manfredi ma quindi tu ritieni giusto che succede tieni veritiero il risultato di ieri la metto mute se finiva 0-0 non c'era da dire niente cioè ma come non c'era da dire niente se non si fosse stato scelto mi importa finiva di margaro dai io mi cavano dai io scusami non riesce a stare vivo una partita di una squadra in casa che ha vinto 1-0 su autogol come ha vinto 1-0 se fosse finita 0-0 per favore se fosse stato un autogol sarebbe finita 0-0 quindi non mi sembra che sto dicendo uno scandalo se finiva 0-0 dicevi si è attaccato un po' di più l'Inter come è nel DNA però ma anche per loro per loro fare delle occasioni da 3-4 per loro vincere comunque 4-0 non capisco se hanno vinto un autogol è attaccato di più però sempre che è segnato su un autogol domandati è ancora più bello con un autogol centonze centonze allora grazie finché abbiamo Dennis che dopo deve andare via facciamo gli episodi arbitrali chiudi manfre però se no non riusciamo mica c'è quelli del Milan che diceva centonze ad andare a vedere giusto? vabbè ma sono influenti questo è il primo Davide Calabria questo è facile questo non c'è nulla è un doppio tocco il primo di chi era la mano davanti al corpo è un doppio tocco di mano però non tutti e poi quello di Pulisic gli arriva dal rimpallo dal rimpallo di un suo compagno quando lui sta saltando quindi qua non c'è qua non c'è niente secondo me questo questo è proprio diciamo gli esempi che fanno le riunioni tecniche quando la palla ti viene calciata sul braccio e arriva da un compagno non è mai punibile però il tuo guard funziona bene ma a prendi al contrario ci faceva 40 post su Instagram però questo siete d'accordo questo penso che siamo d'accordo tutti sul fatto che ma si vuoi sereno andiamo sull'altro episodio dopo loro stravolgono la realtà va bene andiamo c'è un altro episodio questo è un calcio di rigore netto è un tocco di mano netto per due motivi allora da questa inquadratura si vede sia ok che in area di rigore c'è anche questa questo è importante ma come è messo l'aumento di volume e soprattutto il punto perché sappiamo che non c'entra che abbia tutto il corpo fuori scusa Danny ma puoi fare il pool anche qui se vuoi ti dico che li puoi fare anche qua ha dato il rigore l'arbitro Dennis dici che il rigore questo è il rigore questo se l'arbitro questo non lo fischia sul campo il VAR interviene per dare questo rigore qua il VAR è perfetto il VAR è perfetto in questa partita ma basta non credo qua il VAR interviene se per dare questo rigore il VAR interviene se non lo dai è corretto anche non ammonire perché è un cross quindi non è un tiro certamente diretto nello specchio della porta quindi corretto non ammonire le ha o corretto dare calci di rigore altre pigiò di Den di rilievo della giornata c'è stato un po' di volente nella speranza Roma-Cagliari stasera che ti dico c'è stato un primo c'è stato sul primo gol del Milan c'è un contrasto a centrocampo è vero ci sono due mani appoggiate sulla schiena ma non è una vera una vera spinta non si vede a parte che anche lì se Manfred parla di immagini abbiamo visto solo l'immagine troppo larga non c'è stato un replay ravvicinato dove si possa vedere veramente se c'è un movimento a due mani sulla schiena dell'avversario che in quel caso sappiamo che il VAR è autorizzato a intervenire quando c'è due mani per non giocare il pallone non può arrivare sul pallone il VAR interviene quindi anche lì non vedrei c'è stato l'unica polemica è il mancato rigore su Kvara-Scheglia che può in qualche modo ricordare quello evidenzato da Torre ieri la prima dell'Inter ma lì l'incrocio sulle gambe su Kvara-Scheglia va a due bracci a due gambe sulla gamba di Kvara-Scheglia e poi prende il pallone c'è questa qua anche questa è l'unica l'inquadratura lontana se la vediamo si vede che si appoggia non si vede un reale movimento proprio a caricare quindi è lì l'arbitro è sempre fallo così mi hanno detto esatto quello è il discorso quello è il discorso se spinge a due braccia è quello il discorso da qui vedi che prende carica o sta solo cercando di fermarsi secondo me questo può restare un episodio da campo però l'arbitro come dicono in centro era un metro ce l'avrà giudicato se diciamo sempre le mani appoggiate sulla schiena anche sulla come si dice anche Verona Verona Inter sul tocco di Arnautovic a centrocampo ci sono state due mani appoggiate sulla schiena ma anche in quel caso poi il settore tecnico ha evidenziato come quelle due braccia sulla schiena non essendo una reale spinta allora è corretto che il Varo intervenga quindi ci sono due mani e due mani che bisogna cioè questa è stata proprio definita fanno l'esempio Bisseg Genova dicono in chat bello si vede il gomito che i due gomiti che sono chiusi e che spinge in avanti è un po' la differenza un po' questa sia su Arnautovic ci sono in appoggio in questo caso sembrano in appoggio non abbiamo solo quell'inquadratura dicono anche il rigore di immobile che ieri non c'era tra l'altro io ho mezzo perso una schedina per sto rigore qua anche ho messo uno no goal di immobile allora ne hanno dati due uno per il tocco di mano non la guarda neanche lui no no ma sbaglio io no quella non ho ho visto solo dei lights e devo ancora fare il posto oggi su su Lazio o Atalanta Benissimo ti volevo chiedere una cosa però perdonami quando uno appoggia le due mani le due braccia come fai a calcolare la potenza non essendoci il suo termine per calcolarla esatto bravo Torre non puoi esatto se no a quel punto è definizione di quello che lasci al campo perché altrimenti ogni due mani appoggiate sulla schiena eh ma dovrebbe essere così perché tanto tu la potenza non puoi calcolarla allora sta parlando sta parlando sta parlando un imbecille un imbecille sta parlando che ha fatto un post post inter dopo la partita dell'inter non per esultare ma ha fatto un post di polemica per il rigore ma ha fatto un imbecille un interista imbecille tu non hai capito forse tu non hai capito una cosa anziché ti fare inter fai il post sul rigore che non ti hanno dato per quel fatto ma a me di inter non me ne fregavo un cazzo io lo scudetto l'ho vinto già tempo fa però è giusto spiegare tutto perché tu tu sei un cretino perché non capisci niente è giusto spiegare tutto perché ieri c'è un rigornetto che poi Denis ha detto così ma per me è un rigornetto Danilo Suturama è un rigornetto ed è giusto fare un video è giusto però non vi siete dei perdenti nati che non riuscite neanche a esultare quando vincete perché vi dovete lamentare perché non siete abituati si vince con classe non siete abituati quindi donna ficcatella nel culo come ieri la tua juve di merda no pigliatela perdente 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 è bene andiamo a vedere il video incriminato prego Manfredi scusa guardate qua sotto che schifo guardate qua sotto che schifo io mi chiedo com'è possibile che ieri nessuna trasmissione piccoli Manfredi crescono e tutte le altre nessun quotidiano stamattina è uscito questo calcio di rigore io ora voglio sapere per quale motivo non esce questo calcio di rigore netto perché poi si parla di Marotta League tutti bravi Marotta League gli arbitri a favore guardate qua sotto ti rendi conto Manfredi che hai creato dei mostri ragazzi del calcio bisogna dare spiegazioni due interisti che meritano rispetto carenza e torre basta sono arrivate le immagini comunque Manfredi che non sono arrivate ieri abbiamo sia questa Manfredi e anche questa dove c'è la spinta poi di Lautaro Martinez grazie grazie al nostro invoglio grazie mille ragazzi con anche una maglia diversa diciamo che da questa inquadratura qua è un po' più difficile difendere allora io faccio notare tra l'altro si chiama Domenico Manfredi l'utente in mezzo dica dica faccio notare a questi tifosi che ormai sono spavaldi ho sentito abbiamo la squadra più forte d'Europa abbiamo io vi faccio notare che negli ultimi quattro anni finale di Europa League scontro scudetto col Milan scontro scudetto con la Juve ieri finale Champions League quando arrivate davanti alla porta vi cagate sotto perché ieri senza l'autogol non segnavi mai perché tu non sei abituato a vincere gli scontri diretti perché non sei una squadra che è arrivata in finale di Champions League l'anno scorso ti ho mandato a casa davanti alla porta si caga sotto perché quelle partite non le sa giocare punti totali fatti dagli scontri diretti 25 su 27 quest'anno in campionato no no scontro diretto è quello decisivo dell'anno non è quello che non è con le big come dici tu manfredi stai mangiando il legno stai mangiando il legno finiscila va bene a fine stagione ci rivediamo con 10-20 video da passare non vinci col col Siviglia 70 palloni a porta vuota non vinci va bene ma hai terminato col Siviglia vediamo cosa fai perché non le sai fare queste partite le hai sempre perse ricordo intanto arrivaci non uscire in semifinale malissimo va bene va bene vediamo chissà cos'è hai cambiato squadra grande ho fatto una volta a vederla quindi prima che iniziate con la finale no io seguo il Siviglion ma che colpo passi dalla merda alla cioccolata per favore Tore porti rispetto il colpo non so se si ma immagino dico bel gesto ieri ma non ho capito se è stato voluto da parte della Juve che entra in campo proprio nell'ingresso con la giacchetta rosso o nera non so se ci hai fatto caso è proprio un gesto di vicinanza ah ce l'ha addirittura l'ha andata a comprare eh questa qua questa qua dall'altra parte la tenevano loro esatto così ma come mai ragazzi perché perché quelli sono i segni di quando vinci capito comunque arancione non è proprio rossa ah ok ok allora saluto dal tonico come la maglia di scelta cazzo vi devo dire a me sembrava l'attenzione Fabrizio Romano dice che a pochissima fra pochissimo è attesa la decisione di Chilio Mbappé will inform Paris Saint Germain and in the specific case è il presidente Nasser Al-Khelaifi questo può sembrare come un passo formale ma non è solo un passo formale è un passo cruciale è proprio l'unico italiano tra l'altro che sa l'inglese complimenti a Fabrizio Romano è un po' di video vedete che poi dicevano non serve a un cazzo adesso c'è intelligenza artificiale anni di studio buttati incredibile non studiate l'inglese infatti dobbiamo far fare un corso d'aggiornamento a Sarno ragazzi io sono Sarno e poi tra l'altro Sarno ci assomiglia anche come attitudine secondo me potrebbe diventare l'erede prima Sarno in italiano e poi in inglese ricordiamo bravissimo bravissimo oppure anche come si chiama quello là napoletano amico di Pedulla no no è spettico ogni istante no no bravo 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 I want to be able to do a wonder thing allora Dennis mi vorrei far sentire salutiamo Dennis sì grazie ciao ragazzi ciao 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 spammate il canale di Dennis ragazzi le parole di Adani di ieri alla domenica sportiva tra l'altro Manfred sono uscite purtroppo fuori da TVBot cartelloni contro Giordano Enrico caccia tuo padre giugniamo ovviamente a questo mondo un po' difficile contro Camelio penso che siano contro Giordano Giordano che ne so dicono che siano della Lazio scherzo ovviamente prego ma c'è Chef Frankoli andiamo in mezzo al campo l'Inter che prende a parametro zero Mkhitaryan che non voleva alza un po' Manfredo il massimo eh il massimo non voleva nessuno se non l'Inter Doniello Castelli perato 40 milioni ora Biò che è il centrocampista che fa la finale di mondiale con la Francia andiamo in attacco l'Inter perde Lukaku e Dzeko e mette uno che è Turan che nessuno qui considerava di quel livello alla Juventus un anno e mezzo fa ha preso Klawic a 90 milioni sì 90 110 perfetto qui l'Inter prende i parametri zero che non li vuole nessuno li prende gratis e diventano Cialanogo cosa avevamo detto Cialanogo all'Inter come Rodri il Manchester City ma non faceva quel lavoro lì ragazzi voi non date valore al lavoro io penso questo voi non date valore al lavoro beh ragazzi su Acerbi e Darmian però ha ragione cioè uno giocava a Parma ma è tutto grazie a Simone Inzaghi che schifo Manfred è la cosa che hanno ridotto il tutto a noi abbiamo Locatelli e loro hanno Cialanoglu però Cialanoglu quando è arrivato all'Inter non era questo Cialanoglu che ha è scrivito nel lavoro l'hanno messo a fare il mediano e lui è diventato Cialanoglu così non è che da un giorno all'altro è diventato questo giocatore che fa i lanci prefetti a 60 metri ed è quel che manca a noi però noi abbiamo anche un grande allenatore con gabbia libera diciamo che anche noi abbiamo una squadra giovane gente come Miretti Ildiz sono al primissimo anno e ci può stare un anno così e sia chiaro però che si debba vedere qualcosa in più da questa squadra e non togliamo anche la crescita dell'allenatore raga comunque per chi si è perso la partita abbiamo il nostro riassunto del mai il mio nuovo idolo silenziosissimo ma che non si perde niente entra non penso beh sì uno effettivamente è entrato mamma mia ragazzi poi guarda come si spawna nello schermo ma zero inter ma quanta fatica non tanto nella prestazione beh non interrompi un attimo quanto secondo me la squadra di Inzaghi cioè lui fa il collage dei commenti praticamente su internet ha dominato per lunghi tratti della partita quanto per le tantissime occasioni create e non concretizzate l'inter a mio parere gioca comunque un grande match ritmi altissimi calcio di alta qualità i razzurri sembravano spesso avere due o tre marce in più dell'avversario inter che comunque va in vantaggio grazie ad un autogol di Gatti iniziato da un inserimento decisivo di Turan che costringe il difensore della Juventus a toccarla e infilarsela dentro la propria rete nel resto della partita si è vista comunque un inter molto propositiva e una Juventus che teneva bene dietro e ripartiva e devo dire la verità a mio parere la squadra di Allegri oggi fa due passi indietro rispetto alle partite precedenti toccate la San Siro esclusivamente in ripartenza a mio parere non ha giovato vittoria fondamentale per lo scudetto mio parere no ma è comunque importantissima ringrazio te Chelsea è il fratello di Nicci Ladogna è il fratello di Nicci Ladogna è forte forte è molto simpazzini si può sentire grazie però ve lo dico comunque 111 ieri è andato allo stadio così cioè questo è 111 raga che giocatore è questa è stata una pescata Allegri ha chiamato io ho risposto mi sono vestito come sempre ogni giuventino nella sua storia si è sempre vestito in terriuve ci siamo quando Allegri mi sono vestito come te lo stemma c'è ricordatevi i veri ladri che sono loro quanto ci avrà messo per fare tutta sta sta cosa qua bell'idioto bell'idioto diciamo che non cazzo da fare giova allora vuoi vedere è pazzini quando io dico che questi vincono le partite solamente per le botte di culo che hanno questa ne è la prova partita dove la Juventus ma lui Manfredo non riusciamo lui è uno di quelli sempre ogni volta mi dice stasera sono allo stadio io ti dico forse potrebbe essere il primo ospite che paghiamo eppure da averci voglio proprio esaggiare Neschio Neschio vabbè Neschio non cioè Neschio diventa socio se viene vincere al 100% l'Inter non fa un tiro in porta ripeto non fa un tiro in porta e vincono di culo con un autogol di Gatti sfortunatissimo per il resto la Juventus ha annientato questa squadra qui che sta vincendo che partita ha visto comunque Madre no secondo me in live è uno tipo Ale Nero Blu scherzo allora questo qua è Inter questa è la classifica di oggi l'Inter con una partita in meno ormai se è andata quello che doveva fare che dobbiamo dire campionato archiviato sì sì chiuso vogliamo vederci raga lo chiedo anche alla chat prima di andare sulla Roma anzi la live reaction per vedere se c'è qualche idolo nuovo prima solo dentro una cosa non si può mettere tipo un sub goal per portare Manfredi in Irla a festeggiare lo scudetto dell'Inter troppo presto troppo presto a casa gobbi di merda no è gravissimo ma lui c'è ancora con noi e credo di sì comunque posso farti notare che da quando ho fatto l'intervento un po' i perati si stanno incazzando di più con noi non lo so un po' di invidia assolutamente no pancio io anzi ho difeso la tua scelta io sono contro le vie di mezzo quindi il cofano tutte quelle robe là no c'è la patch dici la patch cutanea tutti quei tatuaggi del cazzo o trapianti o ti accetti pelato fine estremista bel messaggio questo non tutti possono farlo in realtà il trapianto quindi c'è magari qualcuno che fa la patch anche perché non può allora via che cazzo è la patch no via tutto via bellissima la patch io ho scoperto bellissima ce l'ha Flora che tra l'altro salutiamo ma ritornerà la pelata ragazzi come che ce l'ha anche con noi lui a casa no Vitale non è la patch ragazzi odio me Kenny pazzito odio me Kenny odio me Kenny Nicola Trombi fortunato lui io tra l'altro ho scopato oggi dopo 16 giorni raga vi dico la verità che ne emozioni oh sono durato tipo che ha meglio il live da noi vi dico quella è stata ma una roba di bravo praticamente raga bello un pochino non ho neanche sull'altro fai un profilo instagram al tuo coso e fai il diario giornaliero ah del trapiantino ci penso ci penso quello di giù che è la seconda volta che ci hai aggiornato sul ok ok va bene ma i bambini ragazzi possono eiaculare non è che c'è niente ma che è tua mamma don questo qua si si 63 anni un applauso alla mamma del don non è mamma è mamma è mamma aiuto ma è la mamma del don è tanta roba mamma mia meno male meno male meno male meno male meno male meno ragazzi sempre la solidazione sempre meno male bravissimo lo stop lo stop no no ci erano c'erano anche loro è bene questo qua ragazzi gli stop sono troppo importanti nel calcio è bene illuminare minchia minchia è il nuovo Lela Dani si si va bene non avrà visto un cazzo perché era dall'altra parte al terzo anello blu la devi stopparla bene mi sei cagato pensa frae lui che guarda il video fa porca puttana è vero che me l'avevano detto mi sei cagato il nostro dai ragazzi dai dai no West occhio occhio West si tu c'è no ha sbagliato lo stop ha sbagliato lo stop ha sbagliato lo stop minchia che finaccia Leandro che cazzo è successo ha sbagliato lo stop poteva tirare pure le prima no ma Kenny perfetto ha sbagliato lo stop era facile era semplice era la cosa più semplice tira un porcone no tira un porcone si sente anche se non l'ha detto mamma che zippone che pippone braovic perché qua abbiamo rischiato molto è comunque ma che stop è l'ha detto grande これ big 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 nothing things that chica quanto una per una lista sbaglia lo stop questo è nostro ismo non bisogna scipparle questo è tipo peppone a Torino con il logo qua di stream 19 euro dalla destra per Pavard buono dai che buono dai ragazzi su come si chiamano loro? passione inter Torra è informatissimo stalker vero il cross è dentro Pavard va dentro Torra è informatissimo stava volando Polimanti niente male no? ha segnato l'Inter siamo in contagio al minuto 36 infatti non mi sto per quello Marco sul lato destro palla dentro panella grande idea Pavard poi deviazione 1-0 Inter con tocco la parte di Turam che viene abbracciato dai compagni è toccato sotto posta al 36 decisivo il velo poi la deviazione e probabilmente c'è l'ultimo tocco la parte di difensore della Juve sul movimento di Turam dove è toccato Gatti un bel cross vabbè dai anche qua diciamo che non erano un po' a tempo sì no no ma fanno apposta loro perché non risulta? l'ho detto l'ho detto ma tutta settimana che dico gol to run gol to run andiamo oh non lo parla mai non lo parla mai c'è praticamente fa le reaction mute il don eh tanta roba il doc il doc ti sa di essere un supereroe con la mara della visita non ti dice niente praticamente vabbè dai però tanto sono sempre quelli eh dai mi hai detto bella su benjamino che fantabetta sarebbe fa sia scommesse che fantacalcio ma bella sei morti gol di l'Inter Turam Turam era nell'aria eh no pensa a Henry se gli devi dire un segreto che tipo deve dire a qualcuno che è successa una cosa brutta come però mi raccomando fai finta di niente ma pare che sia in autorete eh ma non ha gol l'Inter Turam me l'ha messa ahahah 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 finalmente il don ha capito che per vincere bisogna far gol eh 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 Illuminare Comunque la signora donna Anche con Cioè col vino Lui con la birra Bella scena questa qua però Spero anch'io un giorno di essere così Con mia figlia con una panetta No Spero di no Non ci credo ragazzi Infatti io sto rimasto Vabbè dai Barazzante Quanto lotta lui Lui secondo me ti odia totalmente Cioè lui ogni posto si sveglia la marina E sa che ti dovrà attacchiare Dai c'ha 15 anni meno di me Sembra mio fratello Barazzante A me invece da simpatico Non so come è arrivato Perché praticamente Varella La mette in mezzo Per Pavard Che si mette una rovesciata E mi sembrava che tipo non so La palla finisse fuori Ma lui fa le live sull'Inter sempre Purtroppo si Come purtroppo si torna Cosa vuol dire purtroppo Mi sembra un po' eccessivo Lasciare a uno che fa la live Con la cuffietta dal telefono Ecco Va bene Non so sentare la camera Vorrebbe essere lei Noto un po' di Ma no no Anzi io no Io mi accontento Però insomma Rivedrei un attimo la scelta Del social mila e mela Sta criticando l'Inter? Sempre Lo faccio da ormai tre mesi a questa parte Eh sa quello lì il motivo Perché lui c'è Tu no Non mi interessa starci No 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 Se mi danno 300 euro a live ci sono A gratis no Ma se ti danno un biglietto dai per uscire di casa No perché non ci va dallo stadio Quindi non mi serve Ma era due tire sopra di me era lui Vabbè voglio vedere se c'è qualcun altro Sì poco emozionanti dai Eh Gianmarco GP Eh non esulta proprio L'ho visto anche io oggi Non esulta Cioè non È il ventino Ma no Questa è la classica Quando c'hai l'amico Che la guarda con te Che ti fa l'altra squadra Non vuoi Non vuoi Non vuoi fare un po' lo sportivo Sì Tanto dentro stai godendo come un cane Sì Sì no ma non meritavamo Nunzio Vabbè questa è la visione di quello che è successo online Andiamo sulla Roma va No Dai ma no Ma come l'abbiamo preso stupore Ma come l'abbiamo preso Che ride Don Perché Don sta a Toselli come Torres Stai l'Italo Invece io vi dico una roba Toselli Gran Conoscitore Di cibo E di birra Mi ricordo ancora Un aperitivo Io col Pogobbo E Toselli E chi c'era anche Anto con noi Boh non mi ricordo più Dopo Un altro della Juve Un po' stempiato Anche lui Chi no 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 Allora dobbiamo andare sulla Roma amici miei Salutiamo gli interisti Ale vuoi dire qualcosa? Salutate Bacciateci l'asterisco L'asterisco Bacciateci l'asterisco Bacciateci l'asterisco Grazie Ale Grazie Manu Grazie a tutti Ciao ragazzi Anto Tu hai detto che non giochi a Bacciateci l'asterisco Tu non giochi a chat A chat A chat G-E-T-A-R-P Mamma mia A G-T-A-R-P Ho fatto un casino tra chat G-P-T E G-T-A-R-P Allora No Ma io stavo aspettando che uscisse il 6 In realtà No Perché noi In teoria vorremmo da domani Massimo mercoledì Visto che stasettimana non c'è un cazzo di seguire il festival Non ci va Iniziare con Chat G-E-R-P-T Va bene Allora mi scarico Chat G-E-R-P-T ce l'ho già No 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 G-T-A-R-P G-T-A-R-P Sì Dai Perché secondo me Ti vi dico la verità Se uno fa il pugliese Opo Tamarro Mantra Io il calabrese Un sardo In un server Serve sempre Grazie Anto Ciao ragazzi Buon procedimento a tutti Ciao È arrivato il momento Più importante Probabilmente della giornata Stasera si gioca una grandissima partita Big match Buonasera All'allenatore Romanista Più importante A oggi In Italia Non sto parlando di José Mourinho Ma anche lui Ha la faccia sulle panette Il mio caro tester Buonasera 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 Tra l'altro è vero La cosa che hai detto Della faccia sulle panette È capitato Ma con la signora Senza La lasciamo questi discorsi È più importante Roma-Cagliari di campionato O Roma-Napoli di youtuber league Beh Direi Roma-Napoli di youtuber league Assolutamente Ci sono tre giorni che non dormo Bentornata anche a Giorgia Salvucci Ciao Gio Buongiorno Ciao Ciao Sta a posto? Tutto bene Tutto bene Ciao Giorgia Ciao Giorgia Siete carichi ragazzi Per questa sera positivi? Non ci può essere negativi Ma c'è chi lo è Buongiorno Arre Sino cino Buongiorno Buongiorno Le 3.36 di pomeriggio Quando la partita arriva È sempre buongiorno 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 Allora partita Diciamo Per l'Europa Che conta Per la Roma Questa sera La Roma ha la possibilità Di mettersi Cameligno Subito dietro L'Atalanta Credo però Con una partita in più Sia di Atalanta Sia di Bologna E sia di Napoli Però intanto Si può mettere A 38 Contro c'è un Cagliari Ve lo faccio vedere Che ha disperatamente Bisogno di punti Tra l'altro Un ex Bandiera Della Roma Che è Claudio Ranieri Quindi secondo me Non una partita facile Cimo Ma scusate Prima che partiamo Sulla Roma Non vi voglio interrompere Però io Volevo chiedere A Romais Se voi conoscete lui Raga Sinceramente no Sentiamo Ragazzi Io predico calma Io predico calma ancora Fidatevi del briscola Ora è il briscola Ora è il briscola Qua siamo davanti Cioè veramente Al briscola Prima di vedere il briscola Pretico calma È lunga Il campionato è lungo Romanisti Siete usciti dalle fogne Che mossa è Tempi perfetti Tempi perfetti Non aspettavate altro Facile Parlare Con quel filotto Dei partite Saternitana Ora Cagliari Facile Facile Verona prima Facile Noi Napoli Adalanta Fai Neschio Della Lazio Dario da Calendario Toglie Quindi inutile Che esultate È lungo il campionato Non abbiamo ancora La partita da recuperare Cari romanisti La Lazio Chiuderà sicuramente Al quarto posto Mi figlio della mia Lazio Ma come Questo è poco Ma Ve lo dice Il briscola Quindi occhio Occhio Ha fatto tutto lui Ha fatto tutto da solo Sì ha fatto tutto lui Ragazzi se qualcuno lo conosce Mandateci il link E non lo troviamo Non lo troviamo No no lo troviamo L'ho beccato stamattina Allora dimmelo Minchia Niente Prego prego Simoncino Che l'avevamo interrotta Riguardo Riguardo stasera Sì anche Anche se vuol dire qualcosa Sul briscola Ma sul briscola Ha fatto Vi ripeto Tutto lui Domanda Risposta Monologo Ha fatto tutto Lui parla di Lazio al quarto posto Minchia Che non è Aspettate Questa non è una cosa Secondo me Troppo inverosimile Io l'ho detto Perché secondo me La Lazio è la prima Che è uscita dalle coppe Di quelle in lotta E quindi secondo me Quella che Potrà dare uno sprint Comunque Fin da subito Di conseguenza Ragazzi ma arriverà L'Atalanta Mettetevi l'anima in pace No secondo me No se devo dare una griglia Ad oggi che è il 5 febbraio Io vedo la Lazio E poi Roma e Atalanta A pari merito Dietro No no Non so D'accordo Secondo me Non è così Però Prego Aldilà Aldriate questo Vabbè Vai vai No ho detto Non so D'accordo Secondo me la Lazio Non arriva sopra la Roma Perché Cioè Sta in crisi la Lazio Cioè senza vinico Ci si vede il gioco orrendo Che stanno facendo Beh però hanno fatto un bel mercato Ragazzi a gennaio La Lazio C'è da dire anche questo Sì sicuramente Però secondo me Secondo me la Roma arriva sopra Ora non lo so Se arriva in Champions Insomma Sopra ci arriva Eh ma abitato Quello conta dai Riportarsi sul palazio Conta Conta quello D'altro tanto Secondo me ormai La Roma in Champions Non ci arriva più Quindi Ma sì ma ragazzi Ma arriva l'Atalanta Ragazzi Mettetevi l'anima in pace Dai Non ci paragone onestamente Dexter No anche io sono convinto Che le Romane Non arrivino in Champions Ma non per un discorso Di forza della Rosa Ma per un discorso Che l'Atalanta In questo momento Per quello che sta facendo vedere Anche per quello che ha fatto vedere Contro Contro la Lazio Che è una diretta concorrente È sicuramente più attrezzata Per raggiungere E stare al quarto posto In questo momento E poi il campionato Comunque sia È lungo C'è anche il Napoli Da Da non sottovalutare Perché comunque La rosa del Napoli È una rosa fortissima E anche se Questa non è Decisamente La sua stagione Potrebbe Imbeccare una serie Di vittorie Conseguite Difficile Pure il Napoli La riportano Guarda Vi faccio vedere Però Se parliamo di Roma e Lazio Parlerei anche di Napoli Che poi siamo tutti lì O di Bologna eventualmente Però l'Atalanta Sì Vabbè Allora anche Fiorentina Lo so No Fiorentina Però nel senso A punteggio Quello che ci dice oggi La classifica È quello Poi è normale Che La Roma La rosa della Roma La rosa del Napoli La rosa della Lazio Sono più attrezzate Di Bologna E Fiorentina Però In tutto questo Dico che l'Atalanta È superiore Allora Un attimo Scusa Manfred Perché C'è chi non la vede così C'è chi vede la Roma Favorita Buonasera 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 a tutti Buonasera Buonasera Ciao Ale Buonasera Buonasera Ale Conosci tu il Briscola? Oddio Non lo conosco Però sto a vedere Che mi mandano i video Ultimamente Del Briscola? Simpaticissimo Quello da Lazio Sì Lui ha detto che la Lazio Arriva al quarto posto Ed arriva davanti alla Roma Non lo so Per me La Roma È superiore A tutte quante Come alliello De Rosa Per il quarto posto Per me Ok Andiamo a vederci le formazioni Ragazzi di oggi Roma contro Cagliari Una partita che è sulla carta Insomma Comunque la Roma con Rui Patricio 4-3-3 Mancini Iorenti Angelinio Ah esordio? O aveva già esordito Raga No esordio 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 Del nuovo Roberto Carlos Cristiano Credo sia Cristante Paredes E Pellegrini E poi Di Bala Lukaku Ed El Sharawi Quindi In panchina Baldanzi Vediamo il Cagliari Con Scuffe Nandes Mina Dossena E Augello Ma come in panchina Baldanzi? Eh Inizia a parte fuori Magari entra Spaccava Ma Comunque Praticano Viola Dietro La Padula E Petagna Vabbè Ragazzi comunque Ranieri A stare a galla Con sta formazione Sta facendo un miracolo E Imbarazzante Comunque Ale sono più o meno Queste le scelte? Sì Forse c'è L'unico dubbio Bove O Esharawi E Pellegrini Trequartista Con Di Bala Dietro A Lukaku Questo è l'unico dubbio Comunque Forse Frosinone Vedendo le formazioni Hai ragione Cagliari Veramente Una squadra Che farà Molta Molta fatica A salvarsi E se si salverà Sarà un miracolo De Ragnari Secondo me Sì Sì Vabbè Tanto Puoi trovare Sempre tre peggio Che cazzo Sta facendo No Stavo guardando Io volevo chiedere Cosa ne pensavate Di Pellegrini L'ultima volta Noi l'abbiamo criticato Abbastanza Una partita Nonostante il gol Ha fatto due gol In due partite Giusto? Sì 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 Ha fatto Però Io l'ho visto Molto più carico Raga Rispetto a quando C'era Mourinho Proprio un nuovo Pellegrini Che va anche A cercare Il pressing alto Però fin troppo Cioè aveva rischiato Anche Non so se vi ricordate Un'espulsione Un intervento Duro Quello sì Pellegrini È Un calciatore Strano Da quel punto di vista Perché Sempre molto difeso Dalla curva Il primo anno Di Mourinho Fece Mi fece impazzire Fece impazzire Un po' Tutti i tifosi romanisti Sembrava la sua consacrazione Dal primo anno Di Mourinho Si vedeva proprio La voglia Che metteva in campo E anche le prestazioni Poi subito Dal secondo anno Fino all'arrivo Di De Rossi Ha avuto un calo Forse dovuto anche Ad acciacchi fisici E tutto il resto Ora sto rivedendo Almeno La grinta Oltre i gol Oltre comunque Sia il più uno Il più tre Poi ragazzi Pellegrini è tendenzialmente Un giocatore Offensivo Allora tu dici Che il primo anno Di Mourinho Ha fatto bene Però giocava quasi In appoggio alla punta Non so se ti ricordi Poi è arrivato Di Bala Ha dovuto arretrare Si è un po' perso E poi Mourinho Ti dà tanti Diciamo che nei commenti Insomma Non è che Da coglione a coglione Ma è di così della Roma L'hanno preso come capro ispiatorio C'è anche Chi lo chiede Chi dica Pellegrini Non capisce un cazzo È successa una cosa Veramente L'esonore di Mourinho È stato accollato A Pellegrini E ai giocatori E oggi È uscita una storia Anzi ieri Ma io è da una settimana Che la sapevo Questa cosa qui Che praticamente Mourinho Quando è andato via Ha preso l'anello Che gli ha regalato La squadra Quando hanno vinto La Conference League E lo ha messo dentro L'armadietto Di Pellegrini Con un fogliettino Con scritto Me lo ridarai Quando diventerai Uomo Beh va beh Ma che giocatore Che giocatore È tante È tantissimo E questa È questa Ve la confermo Io Non l'avevo detta Dicono che gli abbia messo Anche una panetta È vero Ale Di fumo No dicono Sì sì Comunque io non l'avevo detta A questa cosa Perché non mi andava A creare Ancora Pressione È questa Sì Verso Verso Pellegrini Perché i tifosi della Roma È pesantissimo I tifosi della Roma Che la maggior parte Sono rimasti così Attaccati A questo personaggio Murigno E allora Poi ci sono create Tante cose Su questa cosa Qui Ale Allora C'è un tifoso della Roma Che ha risposto C'è tutto il casino Che è successo ieri Non so se ne vogliamo parlare O ne parliamo No 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 Ne parliamo No ne parliamo Perché poi C'è una cosa Da dire C'è una cosa Da dire C'è una roba Che volevo dire Perché stavo leggendo I commenti Raga C'è tutta sta roba Qua Che Diciamo I tifosi della Roma Si lamentano Del perché non taggano Lukaku Lukaku raga Non hai tag Che puoi accettare Cioè non è per altri Motivi di etnia O qualcosa Quindi andate glielo a dire Nei commenti Così la gente Se ne fa una ragione Se che vedo che C'è solo sta cosa qua Incredibile comunque Allora Vogliamo andare prima Sui pronostici Che chiudiamo un attimo La parte della Roma Poi ci guardiamo Sta roba qua Vi faccio vedere le quote Adesso lo vado a vedere Raga Sì L'ho visto anch'io Niente di che Allora Manco Manco Roma Caglia Ariadna Che sia Però Però lì ci sono Ildiz e c'è la Noblu Allora 1-2 Chiaramente La Roma favorita Parto da Dexter Io penso che La Roma Vinca questa partita Non penso Forza la Fucina Calcio O Cuspo Fucina 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 Anzi Una vittoria di misura Dai Marcatore Ci vuoi dire Lukaku Sicuramente Lo metto Sicuramente Lukaku Va bene Va bene Ma da quant'è che non segna Lukaku Raga 3-4 partite 3-4 partite Mi pare Prego Una cosa del genere Io dico 3-0 Ah vedi il contrario 3-0 Qualcuno Anche tu Lukaku No io dico Pellegrini 3-0 Terzo gol Di fila Di Pellegrini Signore Attenzione Ale Sì se non mi segna lui Ma Se la Roma non vince È Una vergogna Stavartita va vinta E Non lo so Risultato esatto Vedo Che la Roma possa vincere Ma Non Non con più di Due gol di scarto Simoncino Ok Simoncini Secondo me Io comunque concordo abbastanza C'è una partita Secondo me il Cagliari La squadra più scarsa A livello tecnico In serie Quindi Non può esistere Un altro risultato Che non sia la vittoria Marcatore E Sharawi E Sharawi E anche un po' Che non segna No no Ha fatto Comunque Con Con De Rossi È tornato a giocare Dove dovrebbe giocare In attacco E si è visto subito Col Col Verona Secondo me È solo questione di tempo E comunque si sblocchi Comunque la notizia Manfa in realtà È questa qua Premier League Primo calciatore ricoverato Per la droga della risata Porca troia Ma cos'è la droga della risata Scusate Non so cosa sia L'edizione odiana Riporta Un'indiscrezione clamorosa Sulla Premier League Un calciatore Del campionato inglese Di cui non è stata resa lonta L'identità Sarebbe Che almeno gli chiedevi Dove l'ha presa È stato ricoverato In un centro di recupero Per la dipendenza Della droga della risata Quest'ultima viene assunta Tramite delle piccole capsule Che contengono Ah ma io pensavo fosse erba Contengono Ossido di azoto Che creano effetti Come un aumento Del senso dell'umorismo Leggerezza corporea E vertigini Il calciatore in questione Non è stato trovato In possesso È stato trovato In possesso Di decine di capsule Di droga Dalla polizia Prima di Natale Che però Non era stato in grado Di dimostrare Con certezza Che a chi appartenessero Ricovero nel centro Di recupero E quindi avviato È arrivato solo Dopo la richiesta D'aiuto Della famiglia Del suo club di appartenenza La sensazione è che Quel ricovero Non sarà l'ultimo L'utilizzo della droga E della risata Sembra infatti Essere in aumento Tra i calciatori Della Premier League Vista la difficoltà Di rilevarne Le tracce Che cazzo Cioè praticamente Sono capsule D'azoto Che tu ti cali E ridi Sì per L'umorismo Ma perché L'azoco Lo fa ridere Cioè non capisco Come Perché Ma ridiamo Un po' No No Quello è l'elio Quello è l'elio Adesso capito Non è fatto chimica Però Ossido di azoto Scusate Come sempre Chi è questo? E come chi è? Il re di Napoli Amici del web Siamo qui A Napoli Fuori la chiesa E adesso Proveremo Il palloncino Aspetta Ma mi piace Faremo Questa scalinata Mi ha totalmente ucciso No penso Deve prendere Il fiato Mi dissocio Da tutto ciò C'è aria In questo palloncino E gas Sballoso Isilarante E questo? Quindi Ma aspetta Ma no Ma questo è palloncino Questo è meglio Vabbè Io ho scritto Ossido di azoto Droga Vabbè Ma non te lo fanno vedere Sarà illegale Andre Non so Ciao ragazzi Vi racconto una cosa Bellissima Voi sapete che Quando andate a Luna Park E comprate Un palloncino Lo stiamo vedendo Poi se respirate L'elio Contenuto del palloncino No è sempre Elio Non c'è troppo Sì ma l'elio È fatto col protossido Di azoto Vuoi vedere che C'aveva ragione Dexter L'abbiamo preso Per il culo All'inizio Può essere Ma quello Dici che sono capsule In effetti Io sono dovessi guardare La live E mi chiedono Chi si droga Io Un 50 euro Su Dexter Ce li butterei Ti devo dire Ti devo dire Ah non è la stessa cosa Dice Gip Oh raga Se qualcuno lo sa Sono interessato Comunque Vabbò Questi sono Diciamo I punti di differenza Dalle due squadre No no Questa è Una grafica Che ha fatto Greg Quindi Una nuova Sì Le punti Col fatti Col subiti Le mettiamo Perché le fanno I nostri Moderatori Però I fini della partita Fondamentalmente Dai Vabbè Carina Dai Ma Vuoi fare il pronostico 2 a 1 Roma In rimonta Io invece dico Per carità Basta Io dico 1 a 1 Con scandalo Arbitrare Ho speranza Nella puntata Di stasera Ragazzi Non è che scandalo Allora Cosa succede Vediamo un attimo Prego Eh sì Vabbè Questo è un po' Secondo me È riferito A tutto quello Che poi è successo ieri Magari Non so se fare Un ordine cronologico Questo mi sa che Allora Va bene Aspetta che salutiamo Gli altri romanisti Ragazzi In bocca al lupo Per la serata di stasera Grazie Giorgio Grazie 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 Meno 50 al gol Stasera ragazzi Siamo su youtube Col processo Che però Dopo me lo dimentico Metto anche il Link in chat Allora fondamentalmente Ale ieri ci hanno mandato Una clip tua De contestualizzata De contestualizzata Sì Ed è bello che tu sia qua Così tagliamo una testa al toro E ce la leviamo dai coglioni Però io poi Ale L'ho sentito privatamente Prima di esprimere No però è più per quelli che ci seguono Secondo me Allora 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 Che siamo nemici Non lo so Allora No 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 Allora Io il 19 gennaio Ho mandato un audio Anca a domenico Perché tutta la volta Mi sento anche un po' in difficoltà Lui mi invita a venire Suo cv E tante volte Poi non ci vado Io gli ho spiegato E ho detto Guarda da me Io faccio live Tutti i giorni Perché c'ho un canale Quasi tutti i giorni 6 su 7 5 su 7 Minimo Sul mio canale Live minimo Due ore Due ore e mezza Tre Quattro Da solo Magari sì Qualche otto Ma questo figurati Qualche otto E in più E in più Lavoro su contro calcio Cioè per me Contro calcio al lavoro Mi dà uno stipendio E giustamente Anche me lo stipendio E giustamente Do delle priorità E poi Ho una famiglia Due figlie E tutto quanto E di scopare Mangiare Cagare No poi Tutte le storie Al betting C'ho tutte altre cose Sponso Vabbè Sono cose tue No 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 Tutte cose che c'ho Tutto il giorno E per me è un lavoro Questo c'è Non è che io Faccio un'altra cosa Questo è il mio lavoro Che cosa succede poi Io Ho detto a Domenico Quando posso Io alla fine Appazzate Passo Perché comunque Le voglio bene a voi Il rapporto ci sta Io ringrazio No se me la faccio addosso Arrivo Ringrazierò sempre Ocv Per quello che mi ha dato E in questi anni La fucina E tutto Tutto quanto Però C'è un però C'è stato Un qualcosa Che è successo a Roma Mai successo prima Dell'arrivo Dell'arrivo di Un personaggio Un personaggio Sportivo Di un professionista Che è diventato Più importante Della Roma Per tanti tifosi E Io Questa cosa qua L'ho sofferta Perché Sono andato Contro A tanti Tanti tifosi Della Roma Ma non Perché Io lo facevo apposta Perché Perché il mio pensiero Metrocalcistico E soprattutto Anche le notizie Perché Io rispondo adesso Al video Al volo dei Kaiser Kaiser Lo vediamo prima No ma Non sanno Di cosa Stiamo parlando Scusa ma Fra Sulla ragazza Andata a pisciare Bravissime persone Kaiser 11 metri Sicuramente Bravi persone E tutto quanto Io non ce la faccio Più a Contrabbattico Con persone Che Che sono Murigni Noi gliela faccio Io Io non metto in dubbio Che Ale sia Un bravissimo ragazzo Poi noi romani Romanisti Abbiamo sempre Un affetto reciproco Anche se non ci conosciamo Però anche lui Sta seguendo un po' Quest'onda Sta cavalcando Le mode Qual è la moda Adesso Creare due opposte Passioni Creare lo scontro Fra i Murigni Come dicono loro E i romanisti Per far vedere Magari che sono Più tifosi Di altri Allora qui ci stanno Due problemi Che sono abbastanza Grandi E facilmente Intuibili Il primo È che Nessuno Qua parla di Murigni Nessuno È legato a Murigni Qua siamo tutti Con la Roma Con De Rossi Siamo i tifosi Murigni è già il passato Però Murigni fa rumore A nominarlo Perché a destra C'è Vitale Esatto Esatto Già c'è il commento Allora Aspetta Del video C'è ok Abbiamo capito Dai tanto Mi legge solo il commento Di Vitale Sì Cosa dice Tu Tu Riferito a Kaiser Che voglio far notare Che è un ospite fisso Del live di Vitale Però non penso Centri Allora Tu Oltretutto Appena andato via Murigni Non hai mai fatto La vedova Ci sono registrazioni Che lo testimoniano Magari Dai Agli atti Tutti nel mucchio Non facendoci caso Mamma mia Vitale Perfetto Guarda Allora Innanzitutto Devo dire una cosa Kaiser Lui Quando parla Di tifosi Ok Però Io faccio Un'altra cosa E io Lo dico sempre Il tifoso Si fa lo stadio Si prende la bandiera E la sciarpetta Quando ti metti Un microfono Davanti la bocca Vuol dire che Fai comunicazione Io oltre il tifoso Anzi Prima metto La comunicazione E poi il tifoso Cioè fai l'influenza Comunicazione Un'altra cosa No 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 Io faccio proprio Comunicazione Perché io do notizie No 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 L'esperto di mercato No 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 Fermate No 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 Fermate Perché poi Daiale Quello che ha fatto L'ha fatto Con le notizie Che ha dato Sulla Roma E c'ha un canale Dove fa diretto Tutti i giorni E parla comunque A tante persone E ho portato In live da me Personaggi del calico Bro De Varte Sabatini Uno dei Dei tanti Cioè non è che Stiamo a parlare Che io so fare E tic e toc Con tutto il rispetto Beh Non è che so fare Solo tic e toc Dai aci al canale Fa twitter Fa quella Porta personaggi E da E da notizie Quando io Parlo dei murigni Eh Ho fatto sì Tutta un urban fascia Ma è quella parte De persone Che comunque Veramente Metteva prima Murigno Prima della Roma E che adesso Quando tu li vedi Che la Roma Magari Al primo tempo Con la Salernitana Oh ma non lo vedi Schivevano sotto al posto Ma non lo vedi Allora Però Ale Vi permette Allora Madderossi Dopo due settimane D'allenamento Allora io Per me Io li chiamo Murigni E ripeto Io non è Che ce l'ho Con Murigno Per qualche cosa Io oltre il mio Pensiero calcistico Per me Se poteva guardare Roma come giocava E i risultati Che otteneva C'era un'altra cosa Porco dici Siete quello che succedeva A Tricorio E dove come si allenava A Roma Chiaro Ale No no Ti volevo dire Ti volevo dire una roba Cioè Sempre Io te l'avevo detto In privato Che ce l'avevamo sentito In privato Quando era successa La roba di Murigno Se ti ricordi Perché avevo visto Che l'avevi subita Ma comunque Ce lo siamo levati Dai coglioni È un tuo punto di vista Ognuno poi Può cambiare opinione Anche tu Secondo me Su José Mi ricordo Che tu eri entrato Un po' qui da noi Come antica meglio All'inizio E poi anche te Hai visto come giocava Murigno Ti sei fatta Una tua idea Io come tutti gli allenatori Io inizio Doffi pure De Rossi De Rossi Io adesso No perdona mia Ale Scusami Secondo me Cioè alla fine Noi qua Non stiamo Non dobbiamo chiarire Se a te piace O meno Murigno Perché Era che il video di ieri Quando era uscito Secondo me La chat Ha pensato Come se tu avessi Qualcosa contro di noi Esatto Esatto No L'ho spiegato L'ho spiegato Io quando parlo Non mi piace più l'ambiente È che non mi piaccio Per dire Ci sta Undici metri Kaiser Io faccio i nomi Perché giustamente Non è che Ce stanno loro Che quando vai in diretta Li senti che stanno De quella fazione là Diciamo Non Murigni Però Diciamo che Io C'è combatto C'è combatto C'ho le haters So pieno De haters Di qua Spondalà Che quando parlano A me Mi danno proprio fastidio E non ce la faccio proprio Perché io già Comunque li combatto Su Instagram Direct In blocco Su Facebook E prendi Parliamo di cose serie Ascolta Tu avevi la patch cutanea Vuoi passare da istituto Giglio Magari Allora Guarda Ma eri che poi Hai già il sorriso Non fare Allora Io questo cazzo Mi farei subito C'è sbagliato Allora perché la chat Dice per il comunicatore Però ragazzi Perché magari siete abituati A Flora Ale intende magari Che lui fa Comunicazione Sulla Roma Non che è laureato In scienze della combatazione Ma che Io Ascoltate Io Ho il primo termoidraulico Cioè Io sono scritto Dalla terza media Bocciato Ho fatto il primo termoidraulico Non so I verbi congiunti Quello che vi pare Però Se io faccio live Con mille Mille Si dice Insider di mercato Mille Mille Cicquecento persone Con microfono in mano E Fa donna Di Porto gente Importante Comunque Anche con la mia Comunicazione Che è Casarezza La faccio E comunque Parlo Ragazzi Che tifoso Se fa lo stadio Io lo dico sempre Io mi auguro Che accetti Istituto Giglio E anche una panetta Con José Così la prendiamo Più tranquillamente E alleggeriamo Perché a me Mi dispiace Quando si creano Dei beef Online No ma perché Hanno stravolato Un pezzo Se prendono Tutto il pezzo Io lo dico Dico Io ho il lavoro Ho il mio canale Contro calcio E E E Faccio fatica Poi Siamo amici Basta Solo questo A posto Dai Devo andare in led Da Paolo Cannone Ciao Grazie di essere passato Grazie mille Grazie mille No grazie a voi Ciao Grazie Grazie Manfre Grazie a tutti Stasera Stasera YouTube YouTube ragazzi Raga Una roba Quando ci sono queste robe Lo dico soprattutto Ai nostri Abbonati Che metto la chat Abbonati E non mi va di metterla Come si dice Emote Al di là che è una meme Ma magari Se è una roba Un po' più delicata Perché Ale Comunque questa roba qua Di José La soffre tanto Cercate di fare Diciamo Non esagerare Sì Di avere la nostra Stessa attitudine Sennò Siete proprio Nella parte sbagliata Di internet Perché noi Non siamo così E non vogliamo Una chat Che è la nostra Rappresentazione Che sia così Punto Buonanotte Fatevi una canna Se state stressati Buonasera Buonasera